Solo un prologo alla 45esima edizione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti delle altre sezioni che si terrà il 10 ottobre al Senato. Parliamo del premio internazionale Guido d'Urso che ha dato gli via ai vari conferimenti proprio a Napoli nell'ambito della sezione dedicata all'area mediterranea. La cerimonia promossa dall'Associazione d'Urso in collaborazione con il patrocino del Comune di Napoli e dell'Università Federico II si è tenuta presso la scuola di specializzazione in beni architettonici del paesaggio dell'università. La sezione mediterraneo del premio d'Urso è una novità assoluta per il premio d'Urso. Ai premiati viene attribuito il titolo di ambasciatori del Mediterraneo per la missione svolta e ancora di più per quella che svolgeranno. Si può sicuramente immaginare di insegnare una disciplina comune nelle grandi università del Mediterraneo anche per ricordare quello che è stato il Mediterraneo in passato. Nicola Squitieri, presidente dell'Associazione Premio d'Urso. Abbiamo voluto realizzare questa sezione nuova dedicata espressamente al Mediterraneo come diciamo area ormai di grande interesse, come area di solidarietà, di pace, di sviluppo. Il nostro tentativo è dare al mezzogiorno la classe dirigente di cui ha bisogno. Questo invece è il commento del vicepresidente del CNR, Lucio D'Alessandro. Il nostro obiettivo è appunto di lavorare per la formazione di una classe dirigente di questo territorio a tutti i livelli.